Buongiorno ragazze, allora sono stata indecisa fino all'ultimo se iniziare o no questo vlog, però io non ci so stare senza di voi ragazze, non lo so, penso finirò in psichiatria per questo, perché mi mancate troppo, mi mancate troppo e mi piace, mi fa stare bene affrontare le mie giornate con voi, non so, mi dà quell'input in più e quindi chi se ne frega. Eccoci di nuovo qua con un nuovo video, allora oggi ero indecisa anche se vloggare, adesso sto aspettando che è l'ora X per andare a prendere Alessandra a scuola, poi vado a prendere Fede, li accompagno a casa e poi devo andare al lavoro, quindi anche per questo ero indecisa se filmare, però io comunque devo andare al lavoro abbastanza per poco, tipo un'ora e mezza, poi ritornerò a casa e poi devo di nuovo uscire in tardo pomeriggio barra sera. Quindi ho comunque quel lasso di tempo dove torno a casa, dove comunque ci sarà papà a casa, per fortuna, così appunto Fede deve farsi i compiti, Ale farà il riposino, solito tram tram, no? Quindi io vi devo parlare anche di una cosa, assolutamente, perché ho avuto modo di provarla per ben tre settimane, quindi riesco a darvi il mio feedback assolutamente veritiero e quindi ci tenevo perché poi sennò vado troppo oltre e quindi approfitto per parlarvi di quello, scusate gli occhiali ma c'è un sole, ragazze spacca le pietre, bellissima giornata, c'è proprio da prendere, partire, andare o al mare o farsi una gita perché veramente non c'è neanche una nuvola con la punta delle montagne tutte bianche, c'è qualcosa di meraviglioso. Comunque la voce sta anche un pochino tornando, io vi saluto e vi faccio vedere anche come mi sono truccata, appunto mi sono già più o meno sistemata, più o meno, anche se un po' si vede che ho ancora gli occhi un po' a pampinelle da... non sono a posto, però sto nettamente meglio, anche la voce sta decisamente tornando, insomma, con tutti i suoi dovuti tempi, io sto continuando la cura e quindi sto continuando le mie medicine e devo dirvi che va meglio. Poi stamattina Riccardo mi ha fatto dormire, sono crollata ieri sera, dovevo montare il video precedente a questo che avrete sicuramente già visto dove c'è Ale che fa lo svuota alla spesa e niente, continuavo ad addormentarmi davanti al pc e niente, ho spento tutto, ragazzi, sono svenuta, svenuta, anche perché la notte appunto dove montai il vlog del compleanno sono stata... ho dormito poi 3-4 ore, quindi ero stravolta, quindi mi sono addormentata alle 11 e mi sono risvegliata alle 11 e quindi ho fatto colazione tardi, ma va bene così, tanto dovendo andare appunto a lavoro non avrei il tempo di pranzare oggi, quindi ho fatto una bella sostanziosa colazione, io preferisco sempre fare colazione e saltare il pranzo piuttosto che il contrario, per me colazione è vita, caffè e latte, se non c'è quello proprio parto di malumore, quindi assolutamente. Bom, qua ho già anche la mia macchina fotografica, infatti tanto la macchina è proprio qui davanti a scuola, quindi torno subito e niente, ci vediamo dopo. Ragazzi, allora sono appena arrivata al negozio di feste, ho fatto la spesa da Eurosfin con le cose che volevo mettere dentro e adesso vado appunto a consegnarnele. e che vediamo All my friends say, girl, you better take care Cause that man is trouble, you best beware And though you're down, I know I might be headed for teardrops Now that you got me started, I just can't stop No, no, no Cause I love you, baby I can't let you go, baby I gotta tell you that I won't I've been looking for love, so true When I was down and down, along came you Though you might be a liar, and I'll treat you too I just can't quicken out, cause I love you Yes, I do I can't let you go, baby I can't let you go, baby Cause I love you, I love you, I love you No, no, no Cause I love you, baby No, 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 no Can't let you go, cause I love you, cause I love you, yeah There was a time I didn't have romance But after I met you, I felt it wasn't my chance When nobody tells me good things about you, baby I'm gonna stay right here, and I told you maybe, yeah I can't let you go I can't let you go I can't let you go, yeah I can't let you go, yeah You can't tell me to let go, baby Cause I love you, I love you, yeah Cause I love you, yeah I love you, I love you Ragazze, ragazze, eccoci qui, arrivate a sera Il momento che preferisco Il momento che preferisco, tanti di voi mi capiranno Il momento che preferisco, la sera Perché comunque tutto si ferma Mi posso rilassare, posso dedicarmi a me, alle mie cose A volte anche al lavoro A volte a voi, a volte all'editing A volte a leggere un libro Purtroppo poco tempo a questo Però è il momento dove mi accendo una candela Appunto l'ho accesa adesso Che improvuma un po' la cucina E mi rilasso così Anche perché, ragazze, non vi nego che Un po' per il lavoro, un po' c'è stato il compleno di bubi Quindi un po' di Un po' di agitazione, un po' di emozione Un po' di tensione, un po' tutto Per tanti, tanti motivi Perché nella vita c'è sempre un motivo per avere tensione, agitazione La vita ti sorprende sempre E non ti dà quasi mai tregua È davvero difficile annoiarsi Perché succede sempre qualcosa che ci stressa O anche se non succede qualcosa È proprio la routine della vita A stressarci tantissimo E quindi Io arrivo dopo tre settimane di test A parlarvi degli orsetti Allora, io sono notevolmente colpita E ci tengo veramente tanto a parlarvene Allora, sono gli orsetti di Beers Benefit Che sono appunto gli orsetti Sono delle vitamine in orsettini Come le caramelline Ecco, ve li faccio vedere Ne ho volato uno Eccolo qui, guardate che carino E appunto, stamattina io faccio sempre così ragazzi Al mattino, allora io ho questi due Partiamo dal principio Ho avuto l'opportunità di provarli E ringrazio perché ho scoperto un prodotto nuovo Che collaborazione o meno Io riacquisto Perché mi sto trovando molto molto bene E non posso neanche dirvi Quale dei due mi ha sorpresa di più Perché mi hanno sorpreso in ugual modo Ma ora vi racconto Allora, io ho ricevuto Cioè, ho potuto scegliere Due prodotti Ho scelto questo per i capelli Metto davanti perché Questo per i capelli Fatto così Con la biotina, eccetera, eccetera E questo qui che aiuta proprio Questo aiuta i capelli Principalmente i capelli E questo qui invece Aiuta il corpo a reagire meglio allo stress E quindi ho voluto provarlo Perché è un periodo, come vi dicevo Molto teso Molto pieno di cose da fare E quindi arrivo alla sera Che mi sento un po' Ok Questo il calm Keep it calm Vitamin Con appunto all'interno Ve lo dico Dunque Vitamina B1 B2 B6 B12 Sono vegani Gluten free Quindi insomma Mi sembra proprio Anche un ottimo prodotto È proprio un prodotto creato Dalle donne Per le donne Principalmente Tutte quelle necessità Che la donna ha E anche per i bimbi Perché ci sono anche le vitamine Che per i bimbi Aiutano Per esempio Il sistema immunitario Cioè anche per Appunto Gli adulti Sono sotto forma di caramellina Quindi se vi dà fastidio Prendere bustine Queste cose qua Con questo insomma Andate più sul piacevole Perché comunque Di caramellina si tratta Tra l'altro Stasera devo ancora Prenderla E ve la voglio proprio Ve la voglio proprio Descrivere Perché Specialmente questa È proprio un po' Particolare Eccolo qua Questo è l'orsetto Della calma Io chiamo L'orsetto della calma E l'orsetto dei capelli La fatina dei capelli No L'orsetto dei capelli E Questo qua In particolare Quello della calma Mi piace un sacco Prenderlo Cioè è proprio diventato Una coccolina Vi dico la verità Perché A parte che anche il colore Ricorda la camomilla Se guardate bene Ma L'odore E il sapore Mi ricordano un sacco Proprio la camomillina Quella che la mamma Ti dava Con lo zucchero La sera Per rilassarti Per dormire meglio E io queste Quando le finisco Le devo acquistare Ragazze Sfrutterò Sfrutterò Magari Il mio codice sconto Che lascio Qui Anche a voi E La cosa bella È che il codice sconto È illimitato Cioè nel senso Non ha scadenza Quindi dura Quindi dura sempre E Tra l'altro Cosa ancora più carina Potete Usarlo In più Quindi è proprio Una coccola in più Che avete Perché mi seguite Che potete aggiungere Anche A già Gli altri sconti Che Burst Benefit Vi dà Sul loro sito Vi danno sul loro sito Quindi se c'è già Un'altra promozione Non vi preoccupate Potete aggiungere Il mio codice sconto Che è Scritto qua Lo metto Qui sotto Io non la morto subito Confesso C'è ancora l'orsetto lì Perché dura un sacco Se la succhiata Se non la mordete Ed è super piacevole C'è proprio una coccola Una caramella Il vostro corpo sta Assimilando anche Vitamine Invece Per quanto riguarda Quella dei capelli Anche questa Questa è diversa Questa è più fruttata E più Ricordo più la fragola Ne prendo sempre Una al mattino E una alla sera Ma potete anche Prenderla insieme Non succede nulla Sono io che preferisco Farmele durare di più Perché Ci sono andata a cauta Ne ho prese solo una al giorno Una per tipo E nonostante ciò Essendo tre settimane Che le prendo tutti i giorni Una al giorno Ho notato anche I capelli più forti Devo ammettere Che ha funzionato Sicuramente Li avevo indeboliti Per la mia Alimentazione Che sapete Al momento Non è Tra le più sane Cioè nel senso Io mangio un po' di tutto Non è che mangio solo schifezze Mangio l'insalata Mangio la verdura Tante cene Tanti pranzi Non li vedete Perché Magari li reputo Anche meno Così Meno Stuzzicanti E quindi non ve li faccio vedere Se è un'insalata Se è un piatto di spinaci Che accompagno al pollo Che accompagno Piuttosto un'altra cosa Per esempio Stasera vi ho fatto vedere Che C'erano solo i tomini al verde Perché non li faccio quasi mai Anzi Forse la seconda volta È vita mia Che li preparo E quindi ve li ho mostrati Ma L'insalata La frittata Quello che ho fatto insieme Per la mia famiglia Non l'avete neanche visto Quindi Vi dico la verità Io mangio un po' di tutto Però diciamo Che al momento Non essendo a dieta Non mi sto tenendo particolarmente Quindi la mia alimentazione Sicuramente Mi ha Abbassato un po' No La forza Che avevo Nei capelli Nelle Nelle unghie Indubbiamente anche Dovrei prendere Una vitamina Magari che Oltre ai capelli Ecco Prossima volta Vorrei provare Capelli e unghie Se non mi sbaglio C'è anche quello C'hanno un sacco di tipi Andate a curiosare Sul loro sito Perché È bellissimo Tutto colorato Tutto bello E Troverete sicuramente Quello che Fa il cavato vostro Se vi fa piacere Se vi fidate Del Del mio Del mio Giudizio E appunto Col codice Sconto Avete il 20% Più la promozione Che magari al momento C'è sul Sul sito Quindi Curiosate Qui sotto In infobox Vi scriverò tutto Anche la promozione Che c'è sul Sul sito Al momento Però Se più avanti Tra mesi e mesi Vorrete ancora Usare questo sconto Questo sconto È sempre attivo Quindi Io lo lascerò Sempre in infobox Così lo troverete Sempre E che dirvi Questo è quanto Io Mi sono trovata bene Ho notato Differenza nei capelli C'erano dei punti Dove i capelli Erano caduti Non so se Vedete qua Io ero più Stempiata Mi sono venuti Proprio i baby Capelli Piccolini Anche qua dietro C'ho dei capelli Piccoli piccoli Che stanno Proprio ricrescendo E li sento Più Più forti Più belli Non lo so Me l'hanno detto In tanti Specie dopo il taglio Che ho fatto scalato Forse si nota Ancora di più Cioè Se rimanevano Come li avevo prima Si sarebbero visti Meno capelli Un po' più Con un taglio scalato Noti di più Quando è il capello Debole A differenza di Prima che li avevo Tutti uguali Lunghi Belli gonfi E invece Nonostante il taglio scalato In tante E in tanti Anche di persona Persone che vedo Mi hanno proprio detto Ma hai fatto un trattamento Hai fatto qualcosa Alla cheratina Perché te li vedo Più Folti Più Io faccio No Non ho mai fatto Un trattamento Alla cheratina Quindi non so Per ignoranza Neanche in cosa consista Vi dico la sincera verità Però mi ha fatto piacere Questo complimento Erano già due settimane Che Prendevo questo dei capelli Li ho iniziati insieme Tre settimane fa Quindi In tre settimane Sono contenta Che appunto L'azienda Mi abbia dato la possibilità Di avere del tempo Per testarli Perché comunque Se li ho provati da due giorni Che cosa vi sto a dire Mi sto a dire cavolate Perché in due giorni Non vedete nulla Ovviamente bisogna Con costanza Prenderle tutti i giorni E notate Sicuramente Un miglioramento Insomma Poi è soggettivo Non so in cosa consista Sinceramente Non voglio Dar per certo nulla Su di me Ha funzionato Su di me Io con queste Mi sento proprio Reagisco proprio Questo mi è successo Già dopo Penso una decina di giorni A parte il piacere Nel prenderle Ma proprio ho notato Che Dopo una decina di giorni Proprio Quando mi innervosivo Per qualcosa Ero proprio più calma Io Non lo so Come se Veramente il mio corpo Reagisse Un pochettino Più soft Cioè Gestivo meglio Gestivo meglio E quindi Probabilmente Ci sono all'interno Queste vitamine Che vanno a sostenere Proprio il nostro organismo Nei momenti Più stressanti E quindi aiutano Proprio a Si chiamano Calm Penso proprio a posto Poi Già solo il profumo Mi calma Cioè è pazzesco Provare per credere Perché hanno questo profumo Camomilloso Che è veramente Piacevole E quindi Ve le consiglio Ragazze Io sicuramente Riacquisterò questa Perché per me è diventata Una coccola E non saprei farne a meno E invece poi vorrei Acquistare Unghie e capelli Comunque ne ho ancora Un bel po' Perché ho ancora Contate che già Sì tre settimane Ho fatto metà barattolo Quindi durano tantissimo Ne ho presa solo una al giorno Però comunque durano Durano veramente tanto Adesso non c'è scritto Aspettate Volevo dirvi Ecco in questo qua C'è la biotina Vitamina C Vitamina E Vitamina B6 E poi altre tre Però sono scritte in Penso in tedesco E quindi non ve le so dire Non Non lo so però C'è veramente tanto Tutte cose adatte A rafforzare il capello E invece qui appunto Come vi ho detto prima C'è la Tiamina Penso si dica Ah scusate Vitamina B1 B2 B6 E B12 Questo è quello che c'è Se non erro Dovrei aver detto tutto All'interno Scusate se Annaspo Ma sono ancora Un pochino chiusa Meglio Nettamente meglio Se ha la voce Tocchiamo ferro Perché tutte le volte lo dico Poi mi ricasca Però Hanno Comunque contribuito Nel senso che Non ho preso l'antibiotico Tutti gli anni Che mi viene sta roba Orribile Finisco con l'antibiotico Casualmente Quest'anno In Anche Anche in pochi giorni Perché comunque Cosa è passato ragazza Una settimana Neanche Perché era No sì Una settimana Una settimana Tonda Io sono guarita Cioè Quasi guarita Prima col cavolo Io mi ricordo Che l'anno scorso Quando mi è venuta Sta cosa Della gola La solita Laringite Senza voce Eccetera Raffreddore Sono stata due settimane E sono guarita Solo E sempre Con l'antibiotico Quest'anno Casualmente Ce l'ho fatta da sola E prossimo inverno Mi piacerebbe provare Quelle delle difese immunitarie Sia per noi Che per i bambini Perché c'è anche Per i bambini E ve le straconsiglio Perché Ne avevo sentito Tanto tanto parlare Anche da una mia amica Che le aveva comprate E per i bambini Hanno fatto Miracoli Quindi Cioè Gli ha dato proprio Un grosso aiuto Aveva i bambini piccoli Sempre malati Gli ha preso Il barattolino Kids Proprio c'è la linea Ci sono un sacco di pacchetti Offerte per Prendere Che ne so 4 vasetti Ovviamente Il prezzo più scontato Insomma Andate a curiosare Perché Merita veramente Quindi Basta Ho già parlato Per un quarto d'ora Non voglio Non voglio Annoiarvi ulteriormente Però ci tenevo Veramente tanto Ragazze Perché E tre settimane Che le provo E non vedevo l'ora Specie quando ho iniziato A vedere i cambiamenti E Positivi Di parlarvene Sinceramente Quindi Spero vi faccia Piacere Io non ci guadagno Nulla Sulle Sulle vendite Ragazzi Ci tengo a dirlo Non ci ho guadagnato Nulla neanche Per questa collaborazione Nel senso che Vi faccio vedere La mia esperienza Mi sono arrivati Da provare E mi sento Di consigliarve E c'è questo sconto Per voi Quindi spero Vi faccia piacere E ringrazio ancora La Beers Benefit Per la fiducia Per avermi Dato la possibilità Di provarli Quindi grazie ancora E basta Porta di Ale Non vedo l'ora Di vederla Non vedo l'ora Di portarla A scuola Spero si diverta Insomma Chiedono alle maestre Di farmi Qualche foto Ricordo Ma lo fanno sempre Per tutti i bimbi E basta Ho parlato abbastanza Io vi mando Un bacione grande grande Vado a nanna E ci vediamo domani Con un nuovo vlog Ciao